Con noi Fabio Ruvolo, presidente dell'Associazione Etnos. Un accorato appello, una lettera aperta inviata a tutti gli organi politici, al Governo nazionale, al Governo regionale, alle istituzioni. La Rosa dei Venti, un progetto molto importante, un progetto che dà lavoro alle donne vittime di violenza, alle donne che denunciano, purtroppo si conclude. E si conclude, queste donne che faranno? Sì, questo è un epilogo che non volevo assolutamente commentare, anche perché ci siamo esposti, anche politicamente, e questo chiaramente per noi è già una rappresentazione di un qualcosa che non sta funzionando, perché noi siamo dei semplici operatori sociali, siamo operatori che danno accoglienza, che danno ospitalità e che creano le prospettive per una vita indipendente. Se dobbiamo andare a lottare perché lo Stato debba riconoscerci, chiamiamoli dei privilegi, se privilegi sono, perché semplicemente stiamo cercando di dimostrare, e ne abbiamo le prove e anche le evidenze scientifiche, che il lavoro rappresenta non solo la cura, ma anche una delle modalità di contrasto alle violenze di genere più forti, perché rende indipendente ciascuna donna che lavora e le permette di poter immaginare una vita diversa fuori dalle strutture di accoglienza. E quando un progetto si conclude e non ha una continuità, quindi questo mi lascia intendere, ma che cosa lo Stato sta facendo realmente per le donne che denunciano? Va bene l'accoglienza, ma l'accoglienza senza lavoro? Quale prospettive potrà dare? La donna che uscirà da una casa accoglienza, da una casa rifugio, sarà sicuramente riabilitata, avrà più stima di sé, ma dove va? Ma quale sarà il suo futuro? Per cui cosa abbiamo chiesto di così tanto grave da poter sollevare anche un vespaio di polemiche istituzionali? Poi noi semplicemente riteniamo che il lavoro sia strutturale e quindi che nella programmazione degli interventi sulle donne vittime di violenza venga inserito, come è inserita l'accoglienza, nelle strutture protette. E quindi mi dispiace non aver avuto il sostegno del territorio, della politica del territorio. Abbiamo ricevuto sostegni della politica, ma di altre regioni inverosimilmente, che mi ha permesso di arrivare alla ministra. La ministra ha letto la nostra lettera, l'ha valutata. Mi auguro che possa diventare stimolo di confronto per creare i presupposti perché un domani ci possa verificare. Ma ad oggi, 11 donne che in questo momento stanno facendo il lavoro, che fine faranno? Di certo noi ce ne stiamo prendendo carica. E quando nasce EcoCrim, EcoFood ed altre attività di questo genere, ecco perché per noi sono una forza queste realtà economiche. Perché continueremo a sostenere le borse lavoro, anche con la raccolta fondi. Presto lanceremo proprio una campagna per coinvolgere la comunità. Perché capite bene, ogni borsa lavoro ne la paghiamo non meno di 500 euro. Sono 11, per un periodo che va da 6 a un anno. Capite bene quanto è il valore anche economico che assume la... Però per noi il nostro volo, la nostra passione, e noi quelle donne a cui abbiamo trasferito fiducia e in qualche modo coraggio, non le possiamo lasciare sole, non le possiamo abbandonare. Il punto è questo. Si dice tanto denunciate. Però se poi, come dice lei, non si dà un futuro a queste donne, come possono avere il coraggio di denunciare? Perché molte donne non lo fanno perché, a parte essere vittime di violenze, sono vittime anche economicamente dei mariti, hanno dei figli, non hanno come mantenerli. E quindi per questo è importante che possano lavorare. Allora, la denuncia comunque è essenziale, anche perché comunque le forze di polizia adesso veramente più che mai sono pronte ad accogliere ogni denuncia e a renderla davvero funzionale, perché ogni donna possa innanzitutto iniziare ad avere la propria libertà, possa immaginare una vita diversa. Poi sta adesso alla politica, invece insistere su questo aspetto. Noi ci saremo, ci saremo noi, le altre case rifugio operano allo stesso modo nostro con grande passione, con grande professionalità, quindi le donne che vivono situazioni di violenza non si devono arrendere, non si devono scoraggiare, dobbiamo anzi insistere, perché la denuncia è essenziale ed è simbolo di libertà. Noi cercheremo di fare sì che questo fermento, diciamo, di confronto politico possa avere un riconoscimento nel lavoro come ulteriore strumento di salvezza, perché per noi il lavoro è riabilitazione, cura e anche salvezza. Con noi Pasquale Tornatore, responsabile della comunicazione della cooperativa Etnos. Vorremmo parlare con lei della sua testimonianza diretta, perché lei ovviamente ha rapporti con queste donne vittime di violenza. Terminare queste borse lavoro, cosa causerebbe loro? Nell'esperienza della cooperativa Etnos delle case rifugio per donne vittime di violenza abbiamo avuto testimonianza di tante donne che intanto hanno lavorato un po' nelle nostre strutture o in altri luoghi ovviamente protetti, ma soprattutto nel momento in cui hanno completato il loro percorso, diciamo di accompagnamento, il nostro slogan è volare di nuovo con ali di farfalla, cioè riprendere fiducia in se stesse e voglia di continuare la loro vita insieme ai loro figli. Hanno trovato anche delle attività lavorative fuori, perché si sono formate con le borse lavoro e poi completate il percorso e andate via dalle case rifugio, hanno avviato attività lavorative. Quindi le borse lavoro sono uno strumento indispensabile come cura e come ridare vita a persone che hanno subito purtroppo gravi violenze psicologiche, fisiche e quindi è uno strumento che va assolutamente reso normato, cioè non episodico soltanto su dei progetti, ma deve essere funzionale al progetto dell'accoglienza delle donne vittime di violenza nelle case rifugio. Quindi quello che sostanzialmente voi chiedete è che queste borse lavoro appunto diventino legge, che siano per sempre? Sì, siano per sempre, per tutte le case rifugio, tra l'altro questa è una battaglia che stiamo facendo non per la nostra cooperativa, le nostre case rifugio, il nostro progetto La Rosa dei Venti, ma coinvolgendo un po' tutte le strutture, le cooperative che lavorano in questa assistenza. E noi, ripeto, noi come altri operatori che lavorano bene, abbiamo toccato con mano l'utilità anche del lavoro come cura alle donne che hanno subito violenza. E quindi speriamo che la politica sia sensibile e voglia accogliere questa proposta di rendere, diciamo, legge continuativa e non legata soltanto a un progetto, le borse lavoro. Grazie mille. Grazie mille.